Il film indipendente Il film indipendente Il film indipendente Il film indipendente Muoviti Cosa rigi? Ma secondo te In un film indipendente Puoi avere una macchina del genere E poi il vestito gessato Il mitra non fa molta avanguardia E questa? Va bene? In un film indipendente La violenza è interiorizzata Interiorizzata In che senso? Rivolta verso se stessi Rivolta verso se stessi La vendita In un film indipendente In un film indipendente